musica 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 si è abbassutato come è andato oggi? fantastico fantastico! musica 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 e adesso voglio vedere i nostri fattori di questo cao ho dovuto molto passare ma ora è ora, i nostri fattori è in questo caso e ora ci siamo qui coni e ora siamo arrivati con i nostri fattori ma ora è un bellissimo ora ora voglio vedere vi trasm partita guarda qui iscrivono il video e vi saperemo in tutto a canale se vi riesco a vedere e vi vediamo a qui Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.